Il fortissimo maltempo che ha colpito il Cilento nei mesi di novembre e dicembre ha fatto gravissimi danni su tutto il territorio, ma uno dei paesi ad essere stato danneggiato maggiormente è il comune di Monte Corice, una vera e propria perla cilentana che si è visto distruggere dalle forti mareggiate alcune parti del litorale. I danni causati dal maltempo sono stati veramente gravi e le casse del comune sono impossibilitate a sopperire autonomamente a questi danni. Pertanto questa situazione ha indotto il sindaco Pierpaolo Piccirilli e l'amministrazione tutta richiedere alla Regione e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri il riconoscimento dello stato di calamità naturale. Gli interventi da attuare sono molteplici e sono localizzati principalmente nel lungomare e nel pontile della frazione Agnone in località Capitello dove occorre ripristinare muri, ringhiere, pavimentazioni, scale e frangionde. La somma dei danni causati è stata quantificata in 360.000 euro, una brutta situazione da risolvere al più presto per il paese cilentano, conosciuto soprattutto per lo splendido mare che questa volta è stato tradito proprio dalla sua principale eccellenza.